salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono gris proseguiamo la nostra avventura con il gioco di wall stand in order allora vediamo un po siamo tornati sulle terre vediamo un po cosa dobbiamo fare infatti stanno facendo già il culo ancora prima di mettere le piede sul terreno allora vediamo un po che armi abbiamo qua se ci alziamo ci ammazzano di sicuro qua la porta non si apre ottimo è già esplode tutto e qua sta cadendo di brutto ok dobbiamo correre l'ora di qua ok vediamo un po dove andiamo a finire contro il muro e contro una finestra e sfondiamo direttamente una finestra ragazzi pazzesco è impossibile cioè neanche farle poste una cosa del genere allora facciamo così corriamo come abbiamo fatto nelle puntate precedenti ok allora quale da tagliare ok prendiamo andiamo di qua si abbiamo poca energia quello lì è vero però almeno non siamo stati lì a sbatterci continuamente a ammazzare tutti quelli lì là allora poi andiamo qua ecco perfetto ragazzi non volevo far così volevo saltare lì su tenerotto e magari c'è la possibilità di ricaricare il nostro laser vediamo un po' vediamo un po' vediamo se siamo più fortunati allora vediamo un po' ok ecco non volevo usare quello lì ma volevo usare questo allora andiamo giù di qua di qua e qua ok volevo andare qua sopra ah ok era un bracciale incollezionabile stiamo attenti a non cadere ancora ok prendiamo l'aria in corsa non saltiamo di lì vediamo di trovare più presto un po' di energia perché se no qua facciamo una brutta fine allora andiamo un po' andiamo a cambiare arma per pensare questa per la ho già visto uno che scappava qua energia zero vediamo la mappa non ci dice niente è mandato ottimo bello anche ottimo eh cazzo un po' di energia non farebbe male eh allora qua andiamo ah ecco c'è anche pure uno corazzato dai dammi un po' di energia e su c'è a vedere dove è che arriva ecco l'aria l'energia però se vado di là niente niente era su da sinistra lo so però in questo caso volevo prima ammazzare quello e poi spostarci nell'altra stanza vediamo un po' riproviamo allora non con questo fucile allora ce la fai ad aprire prima quello è andato poi dovrebbe usciarne uno di là comunque ragazzi l'app 1 che si prende un pallottolone del genere in fronte è impossibile che sia ancora vivo perché è impossibile allora abbiamo il nostro mitra questo qua che lo possiamo andare anche ad armare con i nostri lanciamissimi quindi se qua dovrebbe uscire ottimo allora andate di mitra tranquillo ottimo dovrebbe esserci ancora qualcuno qua se non ero c'era questo e poi c'era dell'energia qua sulla scrivania quella lì avevo visto l'energia ok dobbiamo stare attenti a quello lì che abbiamo visto precedentemente dovrebbe essere l'ultimo rimasto ok e dell'energia qua ok fino a qua tutto bene sembra che ce ne sia ancora uno però vediamo un po' la mappa avanti sulla destra ci dà un punto lì ci dà un punticino qua vediamo cos'è va bene ok passiamo di qua allora altre cose no non ci dice nient'altro la mappa non è che dobbiamo arrivare per forza là allora facciamo un giro rapido qui vedere un po' questa porta qua è chiusa va bene allora dobbiamo per forza passare di là ragazzi qua vediamo un po' ok ce la fai ad uscire? ok ok e adesso noi riusciamo a salire lì sopra che cazzo fare il giro allora riproviamoci qua andiamo di qua qua è chiusa naturalmente dobbiamo andare qua ok qua mappa allora o dobbiamo entrare di qua dai dai cambia sto cazzo di roda cioè io becco lui e va il missile e va dove cazzo vuole lui pazzesco pazzesco va bene assurdo ragazzi è assurdo assurdo mi hanno lanciato due missili sono passati sotto le scelle e siamo entrati col fucile a pompa nonostante tutto ah il caricatore col mitra mi ha scaricato addosso c'è anche appettato va bene in questo episodio stiamo morendo malamente di continuo sarà morto adesso no ce n'è ancora, pazzesco, ce n'è ancora quindi andiamo, andiamo pazzesco, pazzesco energia, va bene quella per fortuna per adesso l'abbiamo ok, poi andiamo avanti cerchiamo vediamo un attimo la mappa non siamo ancora lì, siamo ok cadini quelli sono andati ecco, quanto adesso deve caricare elimina l'elicottero faccio le eliminiamo con le freccelle l'elicottero allora, vediamo un po' il fucile più potente che abbiamo è questo qua con il lancia ok, noi siamo nella mia macchina andrata la mappa con il lancia missili allora innanzitutto ok, l'elicottero è lì però questi non sono teleguidati allora se noi utilizziamo invece il fucile questo qua adesso è teleguidato dove cavolo è andato? è caduto da solo l'elicottero bene, da scarico va bene dai, carica sto fucile qua su già scarico porco cane che schifo che schifo l'energia aspettiamo prenderla perché non so non so quanto è cazzuto il ricottero può che va a f*****g ce l'abbiamo fatta ok, buono ricarichiamo questo fucile qua un piacettolo che va a pile ok allora proseguiamo allora vediamo un po' adesso abbiamo anche la mappa vediamo se c'è qualcosa qua da raccattare di utile il censore sembrerebbe che non possiamo utilizzarlo altre energie ma sono pieni quindi inutile allora dobbiamo scendere da qua pazzesco siamo anche scesi c'è già l'altro le scarpe ok qua l'ho andato poi qua l'ho andato diamo un'occhiata alla mappa perfetto c'è anche uno super quarazzato a me a me sembra uno super quarazzato morto carichiamo e vediamo un po' qua c'è qualcosa che sbierluccica ok l'energia no l'avevo visto male io sembrava uno super quarazzato qua ok prodice enigma altro da raccattare non vedo qua sopra niente ok quindi dovremmo andare giù ancora di lì aspetta un attimo ragazzi che c'è questa porta qua ma ok posso magari un passaggio di lì o qualunque altro energia munizioni ottimo allora allora dovremmo andare giù di là giù di qua ok e poi andare giù di lì sì qua c'è quello corazzato allora questo è Grazie a tutti. Oh, morirà prima di un po', no? Proprio curioso di vedere fino a quando... Oh là, e vaffanculo. Oh là, allora, vediamo un po' qua. Ok, munizione, ricarichiamo, ok, ottimo. Andiamo avanti ragazzi, qua dietro c'è qualcosa, sì. Ok. Allora, andiamo avanti, eh. Qua. Munizioni. C'è rimasto, perfetto. Allora. Qua niente. Controlliamo bene tutto. Allora, io presuppongo che dobbiamo andare di lì, ok? Però prima di andare di lì, vediamo qua. Se c'è qualcos'altro. Ok. Qua dice Enigma. Qua niente. Qua nulla. Qua nella porticina, vedevo qualcosa che... Ok. Vi sluccicava. Schedare niente. Perfetto. Proseguiamo ragazzi. Allora, siamo tornati qua fuori. Andiamo avanti. Andiamo a scendere di qua. Andiamo, andiamo. Ok. Qua, niente. Andiamo a salire qua. Push the buttons. Ah, c'è il robottone qui. Adesso è sicuro non lo possiamo uccidere con le freccette come abbiamo ucciso gli altri nemici, ragazzi. Spero che non dobbiamo ucciderlo, comunque. Sta avvicinando verso di noi. Sai che ce l'ha proprio con noi, ragazzi. Ma se non ci spostiamo, lui ci sposte. Sì, si gira verso di noi. Comunque. Ragazzi, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra... Sì, infatti, sconfiggi London Monitor. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Per caso se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer728. Un saluto a tutti.